La nostra ragazza è pronta per la distribuzione, il bar con i nostri pincini che sono gli unici della zona che vivono oggi solo con lo strutto e non con l'olio. Abbiamo il nostro signore, dicono che sono giovani, però adesso io mi giro, salve, perché qui c'è una cosa davvero importante, ecco i pincini, andiamo in cucina. Voglio presentarvi i nostri cuochi che ti permettono di non fare aspettare la gente, sono veramente eccezionali. I cuocitori di fritti sono là e ti volevo presentare a parte l'architetto Calan che ha detto anche il restauratore di lapidi. Chi? Chi è il restauratore di lapidi? Perché? Dai, e che sta facendo che cosa? Le costine? Ma che restauratore di lapidi? Ma che restauratore di lapidi? Tutto bene ragazzi? Come va il fritto qua? Come va? Lo richiedono? Quindi non importa la dieta? Qua finzini, finzini, finzini. La settimana no, si sospende. Olio vegetale free? Si sospende, la dieta. Poi da quest'altra settimana ci guarderemo. Dalla dieta. Grazie ragazzi, auguri e buon proseguimento di serata. Grazie a voi.